Oggi preparo scaloppine e funghi. Per le scaloppine e i funghi ci vorranno 300 g di funghi champignon, tagliateli in quattro parti, poi pulite uno spicchio d'aglio, dividetelo in due e togliete l'anima. Lavate anche un ciuffo di prezzemolo e tritatelo finemente. In un piattino mettete un po' di farina. Mettete le fettine, io ho preso la parte della noce, molto sottili, e passatele nella farina da una parte o dall'altra e poi togliete la farina in eccesso. In una padella antiaderente mettete un po' d'olio e fate dorare uno spicchio d'aglio. Poi aggiungete i funghi che avete tagliato, fateli rosolare un po', salate, ci vorranno 7-8 minuti perché siano pronti. Dopodiché levate l'aglio e svuotate i funghi cotti in un piattino. Ora nella stessa padella aggiungete ancora un filo d'olio, fate scaldare e mettete le fettine. Dovete farle dorare prima da una parte e poi dall'altra. Salate. A questo punto dovete aggiungere i funghi precedentemente cotti. Sfumate con del vino bianco, aggiungete anche un po' di acqua all'occorrenza e poi appena ci vorranno circa 10 minuti e si formerà una cremina densa. Alla fine una bella spolverata di prezzemolo. Spero vi sia piaciuta la ricetta, se vi è piaciuta cliccate mi piace e commentate almeno con una faccina. Grazie e alla prossima ricetta!